192 milioni a Chieti, 153 a Vasto, 115 a Lanciano. Sono i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli dell'edilizia sanitaria che saranno a disposizione dell'ASL numero 2. Investimenti che consentiranno importanti interventi di rilancio dell'azienda sanitaria teatina. L'assessore regionale Nicoletta Verì. Vi muoverete su due linee importanti. Sì, è vero, è una importante programmazione sia per quanto riguarda gli interventi dell'edilizia sanitaria che quelli sul territorio. Per quanto riguarda l'edilizia sanitaria avremo la possibilità di realizzare con fondi pubblici nuovi ospedali, Lanciano, Vasto e anche il Policlinico di Chieti, tutta la reingegnerizzazione. A questo bisogna aggiungere fondi per l'alta tecnologia, per l'innovazione da parte della strumentazione. Avremo finalmente la PET fissa presso il Policlinico di Chieti ma soprattutto una rete importante perché abbiamo dato la possibilità anche di assumere personale e quindi mettere in sicurezza tutti i nostri ospedali. Per quanto riguarda la rete territoriale abbiamo approvato con delibera di giunga, con fondi del PNR Missione 6, quelle che sono le case di comunità, gli ospedali di comunità, le case di comunità che si dividono in hub Spock, abbiamo anche aggiunto ulteriori case di comunità Spock dove c'era un'esigenza particolare sul territorio, c'è una gara ARIC per istituire delle unità mobili proprio per raggiungere quei piccoli comuni e dare la possibilità attraverso l'informatizzazione, attraverso la telemedicina di dare un'assistenza di prossimità. Il crono programma che si è dato alla Regione è il 2026, come sottolinea il Presidente Marco Marsilio. Dopo anni, a volte in alcuni casi decenni, in cui non si investiva più sulla sanità abruzzese, ora arrivano centinaia di milioni da investire, grazie al lavoro che abbiamo fatto per intercettare i fondi dell'edilizia sanitaria, oltre 300 milioni intercettati, a cui si aggiungono quelli dell'ozoprofilattico, altri 57, più i circa 200 milioni del PNRR sui quali l'Abruzzo sta rispettando tutte le tempistiche, le gare sono partite tutte entro i termini previsti dalle scadenze molto fitte e molto draconiane del PNRR. e quindi oggi a Chieti, poi a Lanciano e Vasto, tutta la giornata presentiamo i progetti, i progetti dei nuovi ospedali, i progetti degli interventi sugli ospedali esistenti, i progetti delle case di comunità, della rete territoriale di assistenza che verrà messa in piedi da qui a tre anni quando questo programma di opere vedrà la luce. Grazie. Grazie.